Nel pomeriggio di ieri, 25 gennaio, Germaniano si è fermata per dare l'ultimo saluto ad Andrea Forneris, il muratore di 41 anni, deceduto in un incidente sul lavoro a Cafasse. Davvero tante le persone intervenute per l'ultimo saluto. Da tutti chiamato bandi, bandiera, Andrea Forneris sarà volontario dell'AB di Mati e della Croce Rossa di Viu. Nessuno è voluto mancare all'esequio di una persona che ha dedicato tutta la sua breve vita al prossimo. Infatti erano presenti i gruppi AIB della zona, delegazioni della Croce Rossa Valli di Lanzo, i vigili del fuoco volontari del territorio e i motociclisti dell'associazione di Artibail Carlos di Facafasse. I funerali sono stati celebrati da Don Luigi Magnano, parroco di Balongero, amico del defunto. Don Luigi durante l'omedia ha voluto ricordare Andrea come un grande amico con il quale aveva condiviso molti momenti belli della vita. Al termine della funzione, un grande applauso ha accompagnato bandiera fino al carro funebre, diretto poi al cimitero per la tumulazione. Grazie a tutti.